presentandovi gli artisti delle avanguardie io so già che in classe si scatenano un po di smorfie lotte e io devo sempre cercare di farvi tirare fuori il vostro sgomento e l'insoddisfazione perché se fino a questo momento eravate stati appagati o forse di più addirittura dalla visione delle opere d'arte che andavano in direzione della ricerca del bello ecco arriviamo alle opere d'avanguardia e voi mi dite vabbè ma insomma qui sono capace anch'io c'è una semplificazione sembrano opere fatte dai bambini si rinuncia a quella ricerca di perfezione di bravura di armonia che era stata la base dell'arte fino a questo momento allora io vorrei farvi capire intanto che come diceva Baudelaire appunto gli artisti devono essere artisti della vita moderna del loro tempo ma vorrei anche farvi capire che gli artisti che noi stiamo studiando non arrivavano alle ricerche che vi sto mostrando per incapacità tecnica ma tutti questi artisti che vi sto facendo conoscere lo sto facendo con Matisse ve lo farò fare il stesso discorso anche con Picasso ad esempio arrivavano ai loro risultati abbandonando gradualmente o drasticamente tecniche invece che erano assolutamente più tradizionali è il caso lo state vedendo del dipinto che viene titolato come la tavola imbandita del 1896 97 di Matisse che se voi vedete è un dipinto assolutamente tradizionale vi vorrei mostrare quindi questa scelta nell'uso di un taglio prospettico che ancora una volta è tutto sommato secondo le regole c'è la presenza di due seggiole vi mostro questa domestica con il grembiule bianco che sta preparando la tavola ci sono delle fruttiere con dei frutti di colore caldo rosso giallo arancio sulla tavola ci sono delle bottiglie con questi tappi circolari e una serie di altri oggetti sulla tavola stessa vi ho mostrato questo dipinto perché in realtà voglio commentarvene un altro il soggetto è analogo ma viene titolato armonia in rosso o la stanza rossa ma il soggetto è lo stesso e l'autore è lo stesso stiamo parlando sempre di Matisse ma questo è il risultato a cui Matisse arriva nel 1908 quindi è il risultato di cui noi dobbiamo fidarci vedete che Matisse se vuole può tranquillamente praticare una pittura fatta di chiaro scuro ricerca anatomica correttezza prospettica e così via guardate che gli elementi messi in scena sono gli stessi c'è una tavola che ha in qualche modo guardate linea prospettica la ritroviamo qui la ritroviamo forse in questo berleppo qui nell'angolo c'è ci sia la presenza di due seggiole c'è la presenza di queste caraffe vasi dicevamo col tappo rotondo la presenza di questi di questi vasi appunto con le nature morte con questi frutti di colore più o meno caldo che dicevamo ma e la domestica appunto con il brembiole bianco quindi gli elementi gli ingredienti sarebbero in realtà gli stessi ma la messa in scena che ne fa Matisse è totalmente spiazzante innanzitutto Matisse sembra davvero rinunciare come dicevamo già prima volontariamente all'uso della prospettiva potrebbe esserci prospettiva appunto nella questa linea obliqua che vediamo nel tavolo potrebbe esserci nella linea obliqua della seggiola che vediamo in primo piano potrebbe esserci nella lingua linea obliqua di quella che forse potrebbe essere una finestra con una visione sull'esterno però a questo punto le due seggiole se questa in primo piano e questa è su un secondo piano dovrebbero avere delle dimensioni diverse questa dovrebbe essere più piccola e così non è quindi vuol dire che Matisse non è interessato ad accompagnarci gradualmente all'interno dell'opera come normalmente si faceva con la scelta della prospettiva forse il degradare della prospettiva si ottiene quasi con una sorta di effetto pittorico di colore quindi dal primo piano si va in secondo piano e fino ad arrivare all'esterno vedete appunto il degradare dal rosso della anzi dal giallo della seggiola in primo piano rosso di questo tavolo questo giallo più tenue del davanzale e poi questa cespuglio questa siepe e poi il verde che c'è alle spalle e poi questa geometrizzazione di questa casa rosa e il cielo azzurro ma non so se sia graduale il passaggio o se sia invece un'altra la ricerca che sta inseguendo il nostro artista sicuramente siamo davanti a una profonda semplificazione sia delle forme che dell'uso del colore e della luce il colore viene usato come colore in sé non come colore che l'occhio del pittore vede in quel momento siamo lontanissimi dall'occhio dell'impressionista del colore luce dell'impressionista qui abbiamo un colore che è un colore a se stante un colore che è colore eterno mi viene da dire che è sempre se stesso al di là del momento il colore è usato vorrei dirlo ancora in un altro modo in senso è un colore forte e non è un colore chiaro perché c'è più luce cioè capite non è chiaro perché c'è più luce forse ci può ingannare in questo senso questo spigolo del davanzale perché allora questo sembrerebbe più illuminato e questo un pochino più in ombra ma è soltanto una sorta di illusione tra l'altro a questo punto vorrei darvi un'altra suggestione ma siamo sicuri che questo sia un davanzale di una finestra e questo invece non sia un quadro in cornice ecco vedete che tra l'altro questo paesaggio che sia dietro la finestra che sia appunto nel quadro in cornice è ancora una volta reso con delle forme che sono assolutamente primitive infantili schematizzate sintetizzate semplificate dicevamo quindi che è assolutamente un colore antiprospettico e che abbandona totalmente il chiaroscuro vedete che i colori sono stesi in forma piatta per una scelta alla gauguin a campitura ma anche perché non c'è più alcuna ricerca alcun interesse per perché appunto il pittore riproduca la realtà come l'occhio la vede mentre nella versione del 1897 appunto vedevamo ancora i toni medi no vedete appunto che abbiamo i toni luminosi che sono quelli più in luce toni più chiari che sono quelli più in luce i toni medi leggermente più in ombra e quelli appuro più lontani no quelli più nel buio ancora quindi ancora un uso del colore che è assolutamente tradizionale con tutte le gamme con i riflessi della luce sugli oggetti guardate appunto no le cristallerie gli oggetti una bellissima natura morta appunto su questa tavola questo accadeva prima poi vediamo invece che matisse è interessato soltanto al colore della cosa in sé davvero forse più il colore della cosa in sé alla cezanne secondo l'essenza di cezanne che non secondo gli impressionisti matisse realizzerà anche tantissime nature morte che davvero forse risentiranno davvero delle opere di cezanne l'effetto è quello però di appiattire totalmente la scena vi dicevo c'è questa possibilità di degradare dei colori forse no in profondità ma forse in realtà è questa no le dimensioni non sono rispettate quindi l'opera risulta bidimensionale la bidimensionalità è accentuata ulteriormente da queste decorazioni della tovaglia che però ritroviamo anche sul muro vi vorrei fare notare che riconosciamo che c'è una differenza tra il piano orizzontale della tovaglia con gli oggetti appoggiati sopra e il piano verticale del muro solo perché appunto c'è questa linea sottile nera di contorno che separa gli spazi ma altrimenti immaginate di togliere quella linea avremo tutti gli elementi che galleggiano su questo fondo rosso vedete come una linea possa della nostra testa definire uno spazio orizzontale da uno spazio verticale pazzesco se ci pensate è soltanto una linea sottile che ci crea un'illusione di spazio a cui noi crediamo nel momento in cui l'occhio viene accolto in questo dipinto e noi appunto diamo fiducia a quello che vediamo ma c'è l'elemento di disturbo diciamo così di questi elementi di questi arabeschi che possono essere visti come decorazioni della tovaglia ma che ritroviamo pari pari identici anche nel piano di fondo allora questi arabeschi hanno da un lato secondo me si fanno portatori di quell'elemento del decorativismo che vi dicevo farà il suo ingresso nelle opere di Matisse non vi ho detto forse ve l'ho già detto in qualche video che Matisse aveva compiuto alcuni viaggi in nord africa e in algeria nel 1906 poi tornerà in marocco tra il 12 e il 13 quindi in seguito in realtà a questa fase ma da questi viaggi nel nord africa si porterà si farà influenzare si porterà presso intanto un grande amore un grande interesse per le arti minori chi di voi è stato in questi paesi ha apprezzato ancora oggi la incredibile sapienza capacità manuale di lavorazione dei tessuti dei gioielli dei metalli tutti i materiali vengono ancora trattati con una sapienza artigianale incredibile queste arti minori ancora meravigliose in quei paesi immaginatevi nella potenza che potevano evocare una potenza proprio di questa lavorazione con le mani questa capacità decorativa meravigliosa che sicuramente affascinava tantissimo aveva affascinato tantissimo Matisse l'arte islamica in generale sapete che è aniconica nel senso che appunto non abbiamo la figurazione non si possono rappresentare le figure del divino per l'arte musulmana e quindi c'era una profondissima forma decorativa che venivano ad assumere questi elementi e tra cui appunto anche le stesse scritte del corano che diventi trasformano in meravigliosi arabeschi ecco sicuramente queste componenti questi elementi influenceranno il nostro ma dopo per cui io ve li ho anticipati adesso ma non vale per questo dipinto in questo caso mi verrebbe da proporvi allora un'altra suggestione e se questa fosse carta da parati ecco allora forse qui potremmo ricollegarci a un discorso che forse neanche vi ho accennato che riguardava la periodo dell'art vola nel periodo in cui si erano sviluppate le industrie del bello chiamiamolo così io la chiamo una sorta di democratizzazione del bello il momento in cui le industrie devono produrre gli oggetti e già che ci sono gli artisti si pongono il problema di far produrre alle industrie degli oggetti che siano utili funzionali ma insieme anche vagamente piacevoli all'occhio belli visto veramente riducendo un discorso molto più complesso che era partito con william morris e le sua art and craft exhibition society dalla seconda metà dell'ottocento verso il pinino dell'ottocento e che poi appunto si estenderà a tutte le ricerche dell'art nouveau stile liberty stile floreale così si chiamerà in italia art nouveau in francia jugoestine in germania modernismo in spagna e così via ecco per farvi capire vi semplifico ancora di più il discorso chi poteva permettersi di chiamare un pittore a decorare ad affresco le pareti di casa pochissimi ed era veramente anche anacronistico in quel momento no sul fine dell'ottocento nei primissimi anni del novecento ma veniva in soccorso di chi voleva decorare la propria casa l'industria tessile oppure in questo caso l'industria delle carte da parati queste carte stampate che proponevano dei disegni decorativi che un proprietario di casa poteva scegliere in qualche modo a suo gusto a suo stile che quindi in qualche modo abbellivano le pareti con un costo davvero esiguo perché appunto queste decorazioni erano stampate diciamo così e quindi venivano poi appiccicate al muro e quindi potevano diventare decorazioni domestiche portare la bellezza all'interno di tutte le case ovviamente le case di vagamente più abbienti a questo punto questo mi sembra davvero un po un discorso che si possa fare per questa presenza di arabeschi certo è che la presenza di arabeschi in primo e in secondo piano davvero toglie l'effetto di illusionismo appunto che questa sottilissima linea ci dava di distanza tra il piano verticale e il piano orizzontale davvero forse questa è una ricerca molto interessante scorro per mostrarvi a questo punto una serie di altre opere a dimostrazione anche del influsso che i viaggi in nord africa avranno sul nostro questa è la moglie di matisse che indossa alcuni abiti all'orientale qui vi avevo messo due opere su cui però credo che non vi farò lavorare anzi forse vi farò lavorare autonomamente vi darò il compito di lavorarci questo è lo studio rosa del 1911 e quello su cui vorrei farvi lavorare di più è lo studio rosso del 1911 sempre studio dell'artista mi piace proporvelo poi magari ci lavoriamo insieme perché abbiamo già visto l'atelier dell'artista di Courbet per intenderci quindi forse una riflessione comune potremmo farlo nel frattempo vi dicevo questa è un'opera di Deren quindi di nuovo un altro fauve che però dipinge la moglie di matisse con questo kimono quindi orientale qui vedete questi no in seguite queste odalis che così vengono proprio chiamate in seguito a questi viaggi nord africani vedete davvero la bellezza degli interni la bellezza degli abiti dei tessuti dei paramenti degli oggetti le argenterie davvero guardate che meraviglia però guardate la potenza della semplificazione del colore le forme si riducono per lasciare spazio davvero la potenza del colore qui vi ho messo una natura morta che risente con le fruttiere e i bronzi così si intitola che risente di Cezanne no questa semplificazione delle forme queste pere mele arancio quello che sono che no propongono tutta la loro fisicità la loro loro essere concreti al di là di una scelta prospettica qui vedete di nuovo altri elementi altre altre immagini con elementi appunto tratti dal mondo orientale dai viaggi dalla decorazione le maioliche davvero i tappeti tutto quello che era molto molto diffuso nel nord africa qui vedete sempre l'elemento decorativo che prende sempre più piede nelle opere del nostro matisse a queste sono opere ormai assolutamente mature in cui spesso compaiono quadri nei quadri vedete appunto di grande potenza decorativa spesso il matisse dipingerà queste finestre abbiamo già visto questa con tessuto egiziano quindi di nuovo la presenza del decorativismo questo è di nuovo la moglie con questo copricapo anche questo orientale africano non orientale ma africano un'altra natura morta ecco credo di avere concluso qui